Oggi analizzeremo un brano degli Evanescence, Josh Friesa, la batteria Bring Me to Life. Ti invito a scaricare subito il pdf che trovi al link qui sotto. Potrai seguire appunto i tre groove che oggi andiamo a vedere. Il primo che è quello della strofa è quello che io chiamo lo scioglipiede. Ti aiuterà a imparare o migliorare il controllo della tecnica punta e tacco. Vi servirà per abituarvi a sciogliere di più il piede di modo che i colpi siano più fluidi e abbiano tutti la stessa potenza. Questo groove vede rullante sul 2 e sul 4 e ostinato sul charleston in ottavi. Per quanto riguarda il giro di batteria viene diviso su due misure. Sulla prima troviamo sull'1 cassa sui primi due sedicesimi e sul quarto. Sul 2 troviamo rullante sul primo ottavo e cassa sugli ultimi due sedicesimi. Sul 3 troviamo la cassa sul secondo e il terzo sedicesimo. Sul 4 ancora rullante sul primo ottavo e cassa sugli ultimi due sedicesimi. Seconda misura che vede sull'1 cassa sul secondo e terzo sedicesimo. Sul 2 rullante sul primo cassa sul secondo e sul quarto sedicesimo. Sul 3 troviamo due ottavi di gran cassa e sul 4 il nostro rullante. Groove del ritornello che vede in questo caso l'ostinato sempre in ottavi ma suonato sul ride. Sempre rullante sul 2 e sul 4. In questo caso è sempre la stessa misura che si ripete. Sul 1 troviamo cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo. Sul 2 rullante sul primo ottavo puntato e cassa sull'ultimo sedicesimo. Sul 3 abbiamo primo ottavo di pausa e sul secondo un colpo di cassa. Sul 4 il nostro rullante. Arriviamo al groove del nostro special. Qui troviamo sempre il nostro ostinato sul ride in ottavi. Attenzione perché essendo a tempo dimezzato troviamo un rullante suonato solo sul 3. Per quanto riguarda la cassa sull'1 un ottavo puntato e ultimo sedicesimo. Sul 2 troviamo la cassa sul secondo e terzo sedicesimo. Appunto il nostro rullante sul 3. E sul 4 solo il nostro ostinato. In alcune parti possiamo trovare anche il crash suonato insieme al rullante. Ok i groove principali sono appunto questi. Vi consiglio magari specialmente su quello della strofa che è quello tra virgolette un po' più noioso. Lavorare a velocità ben ridotte di modo che riuscite a incastrare e coordinare meglio i movimenti. Per poi portarli a velocità appunto originale ben coordinati e precisi. Non mi resta come sempre augurarvi un buon divertimento. Vi aspetto per un altro groove o per un altro video. Come sempre buon groove e ci vediamo prestissimo. Ciao!